Sono Manuela Barbi, responsabile della proprietà intellettuale nel settore elettronica della difesa di Leonardo, che è un'azienda leader nel settore dell'aerospazio della difesa. Per noi l'innovazione è un fattore fondamentale, è una leva del vantaggio competitivo industriale abbiamo un portafoglio brevetti molto importante e comunque un capitale di asset intangibile estremamente significativo, essendo un'azienda all'avanguardia nella tecnologia avanzata. Sono qui a Skillab per portare una testimonianza industriale di un'azienda che ha una grossa esperienza nel campo della gestione della proprietà intellettuale e parlerò di best practice e di lesson learn perché penso che comunque possano essere utili anche per delle aziende di dimensioni più piccole. Parleremo di strategie della gestione della proprietà intellettuale, di metodi di valorizzazione, di opportunità anche di agevolazione fiscale sfruttando il capitale intangibile dell'azienda e di analisi competitive basate sui dati brevettuali. Grazie a tutti.